Quando avevano rubato il diario al figlio, 14 anni, avevano letto le sue confessioni più intime, venendo a scoprire che gli piacevano i ragazzi, non hanno retto a quello che per loro doveva sembrare un'umiliazione insopportabile. Inizia così la storia di un giovane ragazzo torinese che a 14 anni stava iniziando a scoprire il mondo e anche a capire il suo corpo, che evidentemente non rispondeva agli stimoli di quella che per molti appare come la sola normalità, ossia guardare una donna e provarne dei sentimenti. Mi piacciono i ragazzi, sono gay, aveva scritto su quelle pagine che erano solo sue e che i genitori gli avevano invece depredato. La notizia ha scosso a tal punto il padre, che secondo i capi di imputazione formulati dal PM Giulia Rizzo, dal 2020 al 2022, spinto dalla vergogna, avrebbe dato vita a una vera e propria battaglia contro l'orientamento sessuale del figlio, a cui imponeva di vestirsi da maschio e di fare cose da maschio. O torni normale o ti butto giù dal balcone, gli ripeteva, con l'intento di farlo diventare eterosessuale. Ma non solo, le angherie e i maltrattamenti comprendevano anche punizioni e botte, oltre a costringerlo a farlo correre seminudo di notte. Il padre gli aveva sequestrato lo smartphone, dal quale poteva controllare anche i profili social del figlio, di cui era munito di password e gli aveva dato un mese di tempo per conoscere una ragazza e portarsela a letto. Esasperato il 14enne, si era infine rivolto allo psicologo della scuola e a lui aveva raccontato come era costretto a vivere da due anni nella sua famiglia. Da qui le indagini che hanno portato padre e madre davanti al giudice, accusati lui di maltrattamenti e lei di non aver impedito i sopprusi fisici e psicologici subiti dal figlio. La coppia è stata condannata rispettivamente a due anni e a un anno e quattro mesi. Il giudice ha poi accordato la sospensione condizionale della pena, in quanto i due hanno accettato di fare un percorso psicologico e riparativo presso un'istituzione accreditata, così come c'è Rosso. Oggi il giovane sta per compiere 18 anni e vive in una casa lontano dalla propria famiglia di origine, che lo ha risarcito prima di patteggiare la pena.